giovanotti buon pomeriggio oggi gira domenicale partiamo tardi a due e un quarto e ci andremo verso il circeo quelle parti lì quindi oggi girina fuori porta in tardo pomeriggio oggi domenica 4 febbraio 2024 siamo io antonella e arianna e spartacuccio che sta da qualche parte ok arianna Grazie a tutti Benvenuti a Sperronga, siamo a Sperronga, ecco qui, ci siamo fatti una svolazzata con il drone, questo è il primo filmato che vedete con il drone, quindi mi scuso se le immagini non sono perfette, ma meritava, meritava. Grazie a tutti 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 Tempo fa già eravamo venuti qui a Sperronga, una strumentazione meno prestante e oggi invece siamo venuti con tecnologia più avanzata Tutto bene? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti